Ragazzi perché siamo su un blocco? Perché? Ma c'è una slab! Che bello! Yeah slab! Uh ho letto! No 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 no! Ok! Aiutami a buttarlo giù! Mi sono buttato! Tipizzatemi! No! Ti suisci e riapparirà! Lo respawno nel vuoto! Lo elimino! Mi fa respawnare nel vuoto! Non fa niente! Ti vengo a prendere! No no no! Non farlo! Ti vengo a prendere! Tipizzatemi prima che muori! Ti vengo a prendere! Andrei! Oh grazie! Ma io sono tornato! Raga io mi provo a suicidare un attimo! Mica ci toglie le cose! Ce le toglie! Ci toglie le cose! Questo letto deve essere mio! No ma io non posso! No è il mio! È il mio letto! Ho messo il respawno! Cattivo! Cattivo! Raga dov'è il mio letto? Eh infatti ti levo le porte! Ce l'ho io! E' il mio letto! Raga ma dove sta andando? Ma stiamo registrando? Quanto mi fa? Boh! Altre 5 minuti! Lo fai! Mi sento! Vabbè dettagli! Vabbè io fra poco sto per perdere tutta la batteria! Hai un carico batteria per fare? Ah! Chi mi ha buttato nel vuoto? Non io! Vabbè dai a questo punto continuiamo a suicidarsi all'infinito! Perché stai all'infinito? Leva! Io sto roppendo! Ah! Qualcuno mi ha tipizzato! Ah no! No! Povero è! Ma tu sei in creativa! Sei in creativa! Leva ti dalla creativa! Non sapevo di essere te! Ma che sei in creativa? Siamo tutta in sopravvivenza! Infatti anche io! Ma perché mi hai messo in avventura? Non siamo in avventura! Vedi che le possiamo rompere le cose! Guarda ora ti do una pratica dimostrazione che possiamo rompere le cose! Eh ma non posso picchiare! Non fa niente! Perché non sei caduto? Ho messo facilità! No! Ho messo che... I... 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 Allora! Andy! Che? Wow! Però sto mondo è strano! Allora! Andy! Devi tenerti queste 32! E fai tutto! No! Le volevo io! Cattivo! Però purtroppo non ti posso picchiare! Dammi il letto! No! Tu non dormi! Cattivo! Dammi il mio letto! Oh! Quello è il mio letto! Riga! Guardi c'è un problema! Sono bugato dentro di te! Per favore! Tieni bene! Io andi iniziamo a dormire! Tu fottiti! No! E ho capito! Ma tu sei un imbecille! Non è colpa no! Godon! 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 Che trollo! Aspetta! Ma lui era l'unico che aveva il cibo! No! Io no! Tu avevi il cibo? Tu avevi il cibo? Tu avevi il cibo? On set! Aha! Perfetto! Perfetto! Se ti butti giù ti dà un euro! Ok! Ale preparati! No! Come sei sponato? No! Speravo che sponassi qui! Avevo progettato tutto bene! Ciao ciao! Dormiamo! Afghanistan! Ma non mi puoi rompere! Io non puoi rompere il letto! E anche a me! Ti ho messo visitatore! Mi si è scaricato! Mi dispiace! Ma bucciate il sale dietro di voi! Beh beh! Vi posso almeno guardare no? No! Così poi la prossima! Domani ci sono! Sì domani ci sono! Possiamo rigiocare a Minecraft! Se mia mamma mi permette di portarla! Ma sai che hai raviato il video! Perché? Perché? Ah! Perché mi sei scaricato! No! Perché parlo! No! Puoi parlare! Parlare posso! Sì! Allora vai! E' un genio! Hai messo! Oh! Il mio letto! Ho capito! Ma l'hai messo! Tanto ti rimane sempre il respon set! C'è stato un bug assurdo quello là! Adesso che voglio! Avevo le slab! Avevo le slab! Vedi? Ti rimane sempre il respon set! E adesso? E adesso? E adesso continuiamo a vivere! Senza di me! 3, 2, 1! Sì! Ok! Ale! Ce l'abbiamo fatta a fare qualche progresso! Dai! Sì! Io non c'è! Anche se Granchio è un po' morto! Ok! Allora! Abbiamo! Abbiamo! Ristartato la batteria! Ciao! Vi saluto! Forse dopo faremo dei video insieme! Un giorno! Quando saremo offline! E non faremo! E senza di te! No! Se lui un giorno manderà! Farà! Una mappa! Però domani posso! Zitto! Ciao! Ciao! Alla prossima! No! Aspetta! Arriviamo a 7 minuti! Va bene ragazzi! Penso che per questo video è tutto! Vero? Ok! Ciao ragazzi!